iniziamo con questo bodybuilder che mi avete mandato in tanti non so perché mi avete davvero bombardato con questo bodybuilder che su instagram si chiama destiny5 ma in realtà si chiama Bodebi Davo Ndokuro credo sicuramente sto incasinando il nome ma non mi pare un nome italiano quindi scusatemi se lo storpio in questa maniera comunque gareggiato in una gara della AFB Elite Pro credo classic physique in base al costume che non è neanche un perizoma chiaramente lo saprete benissimo i bodybuilder open usano un perizoma quelli del classic physique usano questa specie di mutanda un po aderente e devo dire che è davvero impressionante io non seguo molto il classic physique più che altro seguo l'olimpia il classic physique perché diciamo davvero troppe gare trovi bodybuilder quindi cerco di concentrarmi su chi vale davvero nel senso chi finisce all'olimpia le prime posizioni dell'olimpia perché c'è davvero troppa gente nel classic però è davvero ottimo la schiena è fantastica come dico sempre la la schiena è la parte più importante di un bodybuilder la definizione è ottima mi piacerebbe addirittura vederlo in uno scenario open questo destiny 5 sperando che possa mantenere queste linee perché le linee sono fantastiche la densità è fantastica l'effetto 3d è fantastico non mi pare abbia punti deboli quindi da tenere sicuramente sotto occhio grazie per avermelo mandato e sicuramente ne sentiremo parlare prossimamente non so perché mi abbiate bombardato con questo destiny 5 continuando con charles griffen ha pubblicato questi aggiornamenti lui e matt jensen a me piace davvero molto e tra l'altro è stata contestata la mia classifica personale basata su gusti personali l'ho detto miliardi di volte anche in quel video perché non ho messo quello non ho messo quell'altro ma sono i miei gusti personali c'è cosa c'è da discutere non è un pronostico non è per dire che bigrami non vincerà non è per dire che ci sono bodybuilder superiori a quelli che ho incluso nella mia classifica personale in base ai miei gusti personali ma semplicemente erano i miei gusti personali chiaramente ci sono bodybuilder superiori rispetto a quelli che ho messo in questa classifica e charles griffen è uno di questi non arriverà sicuramente nella top 10 almeno non credo anche se mi piacerebbe però mi piace davvero molto come bodybuilder molto completo vita stretta quando fa il vacuum ha il torso un po schiacciato un addome un po così è ovvia a queste due cose facendo un vacuum fondamentalmente però davvero molto buono ha fatto bene quest'anno ha un'ottima schiena sta portando una buona definizione ha già caricato il palco d'olimpia 3 o 4 anni fa non ricordo bene quando però mi piace davvero molto io spero che faccia bene è uno di quei bodybuilder quegli outsider che potrebbero insinuarsi nella top 10 parlando di classic physique perché me lo chiedete in tanti questo è urs kalicinski che chiaramente è un bodybuilder che ormai abbastanza famoso anche fatto un video con chris balmsted però non penso che possa ambire né a vincere il titolo né arrivare secondo perché chris balmsted e anche teresa raffin sono di un'altra categoria chiaramente c'è un'ottima definizione ci sono delle ottime linee però c'è messo a fianco a un chris balmsted e a un teresa raffin sfigura perché il classic physique molto più della open si basa su un colpo d'occhio classico quindi non basta essere dei più piccoli e ho fatto anche un video che si chiama il problema del classic physique perché molta gente pensa solo che se un bodybuilder non è grosso come bigrami allora debba fare il classic physique il classic physique più della open si basa su vita stretta spalle larghe e bei dorsali cioè pochi cazzi se uno è più piccolo di bigrami o più piccolo di un qualsiasi mass monster non è che solo perché più piccolo debba fare il classic il classic si basa unicamente sulla genetica sulle inserzioni sulla vita stretta spalle larghe e dorsali il colpo d'occhio che ha chris balmsted non ce l'ha nessuno forse ce l'ha un po tenest raffin per lo stesso motivo vita stretta spalle larghe cosa che non ha un brion hensley che sta scivolando sempre di più negli ultimi anni è cosa che non hanno tantissimi altri bodybuilder comunque ottimo questo aggiornamento di urs kalicinski ma non penso che potrà fare meglio del terzo posto passando al nostro nick walker che sta lasciando l'umanità alle spalle come si diceva per rich piana che era un meme ricorrente nei suoi video io credo che quest'anno sarà la consacrazione definitiva per nick perché da quando ha iniziato a gareggiare da quando ha preso la pro card più che altro è stato tutto in ascesa cioè pro card vittoria al new york pro vittoria all'arone classic quinto posto all'esordio al mistero olimpia non penso che quest'anno arriverà quinto cioè davvero mi sembra impossibile che venga battuto da un hunter labrada di nuovo e davvero io credo che ci sarà un cambio della guardia abbastanza clamoroso quest'anno dopo tre annetti di brandon curry e ha di ciupanna i vertici della top 3 credo che quest'anno sarà l'anno di gente nuova non per forza nick ma credo che nick sia uno di questi quello sai ceste è ottimo non so cosa siano quelle cose nei femorali se sia acne se sia boh copettazioni massaggi cosa del genere però sembra che sia portato a condizione granitica guardate i glutei sia qui davanti a noi ma anche nel riflesso nello specchio si vedono le striature si vedono dei dettagli nei femorali il femorale casca bene nella posa laterale molti bodybuilder non hanno questo effetto cascante del femorale ed è un difetto chiaramente è abbastanza denso è quasi granitico sicuramente porterà un'ottima condizione sono molto curioso di vederlo dopo un anno pieno di off season perché l'anno scorso non ha fatto un anno off season ha gareggiato all'harmon classic che ha vinto poco prima mister olimpia invece quest'anno si è preso una bella off season quindi saremo a vedere predico un cambio della guardia quindi come sempre vi ricordo che il mister olimpia si può acquistare sul sito mister olimpia o su olimpia tv dove si guarderà lì e non farò ovviamente streaming come non l'ho mai fatto buona grazie a tutti